Ciao a tutti amici, oggi vediamo come resettare il service di una BMW F30, serie F30, dal 2011 in poi. Allora accendiamo il quadro e ci dice quali sono le manutenzioni da eseguire. Attendiamo che escano fuori i chilometraggio, come in questo caso. Porte, baule, cofano, sempre tutto chiuso. Ora andiamo ad azzerare il chilometraggio. E teniamo premuto, col tastino qua sulla sinistra. Alppena esce il reset seguibile, lasciamo e ripremiamo. Eseguire il reset, lasciamo e ripremiamo. Reset in corso, teniamo sempre premuto. Reset riuscito. Lasciamo e è già finito. Un gioco da ragazzi. Ciao a tutti amici.